Fabio Concato con Sexy Tango, siamo arrivati alle 5.56, a breve l'appuntamento con il GR1 delle 6, intanto rivediamo che sull'A4, sul Bivio, con il raccordo della tangenza all'est di Milano, in uscita da Brescia si è verificato un incidente, siamo al chilometro 144, risolto invece l'incidente in A4 tra la ciumetta 58 e a Grande verso Milano, in cui era rimasto coinvolto un mezzo pesante, risolto anche l'incidente in A14 tra Val Vibrata e Grotta Mare in direzione di Ancona, per il resto non ci sono problemi ancora alla viabilità, vi ricordo il 348 103 10 10, per gli sms naturalmente scrivete in sicurezza quando non state guidando, noi ci ritroviamo dopo il GR1 delle 6, rimanete con noi e a tra poco. Grazie a tutti!